buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti su questo video fantastico sta arrivando qualcosa di inaspettato ragazzi nel giorno degli innamorati sono due le cose si ipotizza che si arriva una tempesta oppure un'ondata di gelo ovviamente la stessa cosa la tempesta porta anche nevicate però con venti fortissime oppure il vortice polare o di bassa pressione che porta solo nevicate fino al sud da noi come questo il 5 di febbraio che è accaduto che ha nevicato ma qua ha fatto grandine neve di mattina ha fatto pioggia gelata cioè neve e pioggia mischiata ovviamente buona visione per il video raga ragazzi questa qui è meteo tempesta sciara in veste l'europa ci sono danni feriti ecco la situazione rischi per l'italia per ora è arrivata lì nel regno unito poi ve lo mostro della proiezione che ho fatto io per ora guardiamo i danni e dove è arrivata freddo a san valentino vedete aspettate aspettate vedete dove la tempesta raga ora qua è già raggiunto il regno unito ancora noi abbiamo l'anticiclone vedete dove raggiunto la tempesta qua londra e in francia è arrivata metà infatti ci sono alcuni feriti la tempesta sta arrivando ragazzi allora vediamo che dice qui bello vedete ragazzi la tempesta poi sono i prossimi giorni tipo domani dopo domani mani arriverà lì quindi prende ancora di più vedete dove il centro del vortice lì è e lì c'è più vento forte ragazzi ok ora andiamo a vedere le mie proiezioni che ho fatto io ragazzi guardate quello è il vortice polare vedete era un'evasione quella volta non è che ero si è sprigionato oggi è così vedete già le tempeste sono arrivate là e andiamo avanti tra domani e 12 vuol dire che tra domani che 11 e 12 e così vedete in questo modo poi tra il giorno 13 inizio dal giorno 13 e poi fino al 15 ed è per san valentino vedete ragazzi io sono innamorato della neve con gli occhi e invece altri muoiono il freddo tendosi in mani e io di nuovo ora io sto subendo sotto coperte così perché c'è bel tempo eccetera capito ragazzi beh ragazzi spodendo che questo video ragazzi arriverà una tempesta di neve oppure arriverà un vortice cioè polare di bassa pressione di neve se è piaciuto iscrivetevi al canale mettete un bel like seguitemi su instagram ah non dimenticate di cliccare qui per iscrivervi al canale e qui e qui per non perdervi gli altri episodi dedicati al vostro youtuber preferito world b23 e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi